Si presenta come un nuovo punto di riferimento per gli operatori del comparto agricolo locale. Il GAL da Uno Fantino ha inaugurato a Barletta, in via Scommegna, una sede che fungerà da centro di assistenza per gli imprenditori interessati ai contributi erogati dall'Unione Europea ed in particolare dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Una nuova sfida per il gruppo di azione locale operante nei comuni di Barletta, Manfredonia, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Ci darà la possibilità di avere un contatto più diretto con i cittadini, con la popolazione, con l'amministrazione del Comune di Barletta, in modo che il GAL, con il suo ruolo di agenzia di sviluppo del territorio, potrà sicuramente essere di servizio. Ecco, questo è quello che noi vogliamo fare. Tante le opportunità da cogliere per gli agricoltori intenzionati a continuare ad operare in un settore in difficoltà ma di primaria importanza nell'economia regionale. A Barletta si è fatto il punto sul bando multimisura finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dedicato alle start-up innovative e alle attività extraagricole. Un pacchetto multimisura che dà la possibilità a singoli soggetti, a nuovi imprenditori, di potersi affacciare al campo delle nuove attività, perché si tratta di start-up, per poter avviare attività nei settori dell'extraagricolo. Quindi al campo commerciale, al campo dell'artigianato, al settore turistico, al settore sociale, possibilità di poter fare investimenti con progetti che vengono presentati con investimenti fino a un massimo di 100.000 euro, in cui c'è un finanziamento del 50% di quello che si prevede di realizzare, in aggiunta la possibilità di poter ottenere un premio per la start-up, per la nuova attività che si intraprende, con un importo di 13.000 euro, che è un importo una tantum che viene dato proprio per consentire ai giovani, alle donne, a cui particolarmente è riservato questo bando, possono ottenere quindi dei benefici importanti e quindi essere incoraggiati ad operare nel territorio dell'area Gall.